Bene, dato che dobbiamo recuperare del tempo io non faccio un lungo discorso ma soltanto un accenno che è questo. Noi siamo qui per presentare una serie di suggestioni sulle idee, possibili idee da mappare. Quello da cui io volevo partire era dirvi che secondo me il punto importante è prima di pensare a cosa mappare sarebbe interessante sapere per chi mappare, quindi cercare di pensare a quelli che sono gli utilizzatori finali ai quali vogliamo indirizzare il nostro lavoro di mappatura. E in particolare rispetto a questo, se ne riparlerà poi anche con alcuni di loro, il tema è mappe inclusive, quindi considerare il fatto che sicuramente c'è necessità di dare un servizio di mappatura giuriferita anche a tutto il mondo diciamo che ha necessità di avere particolari relativi all'inclusione, che siano inclusioni per disabilità piuttosto che per problematiche di tipo temporaneo ma da questo punto di vista un invito generale visto che comunque anche a livello europeo l'obiettivo di Europa 2020 è l'inclusione, rispetto a questo farei un piccolo suggerimento e un invito a tutti voi a pensarle anche in questo modo. Martina, subito. Subito perché vengo da più distante rispetto a questo mondo. Avrete visto sul programma, era stato invitato il nostro direttore di Coldiretti Michele Mellano che per ragioni familiari non può essere qui, era molto dispiaciuto. Il mondo agricolo è lontanissimo per ora dal mondo degli open data, io sono affascinatissima da queste presentazioni che ho visto fino adesso ma sicuramente una parte, forse ancora piccola ma speriamo che cresca, ha capito che invece questi due mondi devono trovare delle connessioni appunto e Coldiretti Torino per questo ha avviato ormai da un anno un progetto che ha chiamato Cultura Digitale. L'interesse è partito un pochino appunto in sordina perché le aziende agricole disponibili a mettersi in gioco su questi temi non sono molte e quindi abbiamo fatto una serie di attività e abbiamo cominciato a lavorare sui mercati domenicali di Campagna Amica proponendo delle attività e facendo in qualche modo narrare alle aziende agricole le loro esperienze. Questo perché le aziende posseggono una quantità enorme di informazioni non di dati ma di informazioni che non fanno precipitare mai i dati poi utilizzabili. L'organizzazione Coldiretti ne possiede tantissimi, alcuni sono dati utilizzabili altri di nuovo sono informazioni e quindi abbiamo cominciato questo lavoro che per noi è proprio anche di cercare di creare negli agricoltori una cultura diversa e anche in qualche modo stimolarli ad aprirsi, ad aprire le loro aziende agricole e a raccontarle in un modo diverso. Abbiamo ragionato con Monica Piscella che poi presenterà meglio di me il progetto e quello che vogliamo fare sul fatto che per esempio noi abbiamo a disposizione dati probabilmente non omogenei, non sempre chiarissimi, non sempre sufficienti i dati delle tutte le aziende agricole che aderiscono a Campagna Amica che è un circuito di aziende agricole che fanno i mercati, che hanno il loro punto vendita in azienda, che hanno per esempio i ristoranti che utilizzano prodotti di Campagna Amica, insomma ci sono tutta una serie di dati che descrivono gli agriturismi, ci sono una serie di dati che descrivono queste aziende e che potrebbero essere in qualche modo resi disponibili e utilizzati. In più abbiamo tutto un filone di attività che è nato di recente ma insomma particolarmente interessante che ci sta a cuore che è quello dell'agricoltura sociale. Tante aziende agricole hanno cominciato ad aprirsi al territorio, ad analizzare quali erano i problemi sociali nel loro intorno e a trovare delle soluzioni. Queste soluzioni sono inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, sono agri asili, sono servizi per gli anziani, sono appunto tantissime cose che rispondono a bisogni puntuali sul territorio. Anche qui molta informazione, magari non dati disponibili, e quindi noi abbiamo tanto bisogno di aiuto anche per individuare come far diventare dati utilizzabili tutte queste informazioni. Abbiamo un progetto che si chiama AgriAble che sta lavorando sugli agriturismi per renderli accessibili alla disabilità ma anche alle diversità in senso ampio, quindi un percorso di accompagnamento agli agriturismi che li renderà, speriamo, alcuni di questi per l'Expo disponibili ad accogliere persone portatrici di bisogni speciali, le chiamiamo, quindi non solo disabilità fisica ma anche tutte le problematiche alimentari, anche le mamme con il passeggino che come chi è in carrozzina hanno bisogno di muoversi in uno spazio diverso, eccetera. Quindi queste sono tutta una serie ulteriore di informazioni. Noi abbiamo bisogno di voi perché se riusciamo attraverso di voi a dimostrare che raccogliere dati in modo sistematico, renderli disponibili, aiuta le aziende a lavorare meglio, a produrre sul territorio valore economico per loro ma anche valore sociale, ecco noi raggiungiamo un risultato straordinario non solo per le singole aziende ma per le economie locali dei territori in cui le aziende sono inserite. Quindi ho visto questo progetto sui trasporti e mi sono un po' emozionata perché in realtà uno dei grossissimi problemi delle aziende agricole degli agriturismi è la possibilità di raggiungerli con un mezzo pubblico o con il car sharing o comunque per chi non arriva con la sua auto sul territorio piemontese. Ecco, riuscire ad incrociare per esempio i dati che riguardano le caratteristiche degli agriturismi con queste informazioni sul trasporto per noi sarebbe un risultato enorme. Appunto l'agriturismo o le aziende agricole sono enogastronomia sicuramente che è uno dei temi ma sono tante altre cose che fanno sociale, che fanno welfare di territorio, che fanno economia del territorio. Quindi un discorso un po' ampio ma questo è un po' il senso finale del nostro lavoro e chiediamo su questo la vostra collaborazione perché ne abbiamo davvero bisogno per uscire anche un po' dalla tradizione se vogliamo dire così, l'agricoltura è tradizione soprattutto ma si sta lanciando, sta cercando di trovare appigli per diventare un'agricoltura diversa. Grazie. Allora a questo punto passiamo la parola ad altri territori molto importanti che sono quelli montani attraverso Marco Bussone. Grazie, scusate intanto io ho tardato un po' a arrivare a questo pomeriggio perché ero in montagna, ero a Pomaretto in Val Chisone all'inaugurazione di una fiera agricola e guardavo gli allevatori pensando che poi sarei venuto qua. Due mondi che dicevamo spesso con Giuliana in tempi non sospetti non si sono quasi mai incontrati, vero? Lo diceva già l'amica di Coldiretti. Quanto il territorio rurale oggi abbia bisogno di fare innovazione, di incontrare chi si occupa professionalmente di temi legati al digitale e all'innovazione in genere. Siamo come Uncem i rappresentanti dei 553 comuni montani del Piemonte, sono oltre la metà dei comuni piemontesi, rappresentano la metà del territorio piemontese dove vivono 700.000 persone. Sono piccoli comuni, in realtà marginali, che troppo poco spesso incontrano i temi di cui stiamo parlando oggi. Uncem collabora a questo progetto perché invece crede che in questa fase di profondo cambiamento degli enti locali, lo leggiamo sui giornali, vediamo quanto stiano cambiando, ci sia bisogno di guardare un futuro dove costruire innovazione vuol dire migliorare la vivibilità dei luoghi. E allora oggi, pensando ai tanti dati che possiamo mappare, io parto da questo, cioè come l'innovazione migliora quei luoghi, migliora la vivibilità di quei luoghi. Pensate soltanto, e do alcuni aspetti, alcuni dati che possono essere poi sviscerati, possono essere poi portati sulle mappe. Nei 553 comuni montani che reagiscono, e questo è un dato che porto la vostra attenzione, stanno reagendo in modo diverso alla crisi economica rispetto alle aree urbane. Crescono le imprese agricole, sono in crescita le imprese turistiche, ci sono dei numeri che la Regione, l'assessorato alla montagna e l'assessorato all'agricoltura hanno, che però vanno analizzati nella logica che oggi vogliamo approfondire. Possiamo partire da altri punti che sono quelli relativi alle risorse naturali presenti sui territori. Brodel ci insegna che la montagna è un territorio che crea economia, lo fa a partire dai beni collettivi che sono l'acqua e il legno. E allora perché oggi non provare a mappare quello che sono le foreste, 980 mila ettari di foreste, come vengono usate, come non vengono usate, come queste rappresentano una protezione per la città in una logica sussidiaria, perché la foresta curata e mantenuta non è un tema al di fuori di quello che oggi stiamo trattando, ma pensiamo in una logica sussidiaria a come lavorare sulle foreste, approfondirne il loro ruolo, approfondirne i numeri e i meccanismi di utilizzo può far bene alla città in una logica di mantenimento, di protezione climatica e di, ai noi, anche difesa e manutenzione dell'assetto idrogeologico visti gli ultimi fatti in Italia. Foreste è un tema, il secondo l'acqua, la montagna è un bacino d'acqua sia per scopi idroelettrici, rigui e idropotabili enorme, è ovviamente il più grande bacino che abbiamo in Italia, le Alpi lo sono, e allora provare ad analizzare quali sono i numeri dell'acqua, perché è importante portarli su una mappa e capire come questi devono diventare patrimonio comune, non sono soltanto il tema dell'acqua con le sue sfaccettature, non è soltanto un tema per addetti ai lavori, ma diventa un tema pregnante, perché è la vita, è l'energia, è una nuova forma anche culturale di ragionamento. Aggiungo poi un tema sempre collegato a quello che la montagna può fare in questo progetto, in questo ambizioso progetto a cui stiamo lavorando, che è quello del mantenimento del patrimonio edilizio. Allora voi sapete che nelle aree montane piemontesi ci sono migliaia, almeno 5.000, secondo alcune stime regionali, di immobili inutilizzati, capire dove sono, perché sono inutilizzati, perché sono il frutto di uno spopolamento che ha portato via dalle Alpi negli ultimi 60 anni, quasi 500.000 persone le ha portate a valle e capire come questo, come i comuni, gli enti locali possono valorizzare questo patrimonio. Sono temi molto concreti, credo che però per incontrare le esigenze della montagna anche oggi lo story ton e il racconto con la mappa deve andare in questa direzione, deve andare su temi concreti che il territorio può conoscere, dicevamo prima che finora non ha mai conosciuto abbastanza, non ha mai approfondito abbastanza, sia per quanto riguarda più il comparto agricolo, rurale, ma anche il comparto relativo agli enti locali e al sistema della pubblica amministrazione, allora noi vorremmo, d'intesa con tutti gli altri partner, facilitare questa connessione. I dati sono tantissimi, non li abbiamo più, forse mai approfonditi, perché rimangono come un patrimonio che la regione metta a disposizione, ma non sono mai stati più di tanto analizzati, forse ce ne sono molti altri che sono lì chiusi in qualche cassetto che invece possono determinare, lo studio, il loro studio può determinare delle nuove politiche concrete, efficaci, a vantaggio sia di chi vive nei territori montani, sia di chi, credo la maggior parte di voi, vive nelle aree urbane, vive a Torino e nelle aree metropolitane, ma che approfondendo quei numeri, quei dati, portandoli su una mappa può maggiormente conoscere il territorio e avere un tre di unione importante che vuol dire sussidiarietà e solidarietà, che oggi è una necessità che la montagna ha, non in forma esclusiva, ma assieme a tutte le Alpi. Questo è un po' quello che mi è venuto da dirvi, poi credo che potremo approfondire anche sulla base di vostre suggestioni. Grazie. Bene, allora dopo la campagna, dopo la montagna, arriviamo in città e proviamo a parlare invece della parte di turismo e cultura in città. Magari alterniamo e passiamo da Carlotta, passiamo a una donna. Ecco appunto, apparentemente sembrerebbe un salto così teorico abbastanza alto, ma io invece penso, quello che vorrei dirvi, è che forse possiamo pensare ai musei come un hub, come un crocevia, dove anche la storia delle nostre comunità montane si trova e quindi invitarvi magari a pensare ai dati, che sono pochi. Noi come Fondazione Torino Musei abbiamo pubblicato sul portale open data.fondazione.musei.it l'anno scorso i dati che avevamo disponibili e tra le barriere che citava prima Anna, faccio questo piccolo inciso, c'è una barriera di competenze, quindi io denuncio, autodenuncio la mancanza di competenze nel liberare i tanti dati che noi abbiamo. Volendo invece proseguire su questo link con chi mi ha preceduto, per esempio dentro i musei ci sono tantissimi dati sulle essenze linee e sulle foreste che coprivano il nostro territorio nel 200, nel 300, nei secoli passati e magari ecco ricostruire la storia naturale di quelle essenze linee che oggi sono trasformate in opere d'arte, conservate nei musei potrebbe essere interessante per comprendere meglio il nostro territorio. Oppure partendo appunto dal punto di vista dei musei, quello che noi facciamo, cerchiamo di fare, è farci attraversare dai bisogni delle persone, delle tante persone che vengono a visitare i musei e quindi abbiamo moltissimi dati sulle provenienze, per esempio, delle persone che varcano fisicamente le soglie dei musei. Li abbiamo e non sappiamo come tirarli fuori. Io credo di avere circa 50.000 risposte a questionari raccolte negli ultimi dieci anni a Palazzo Madama, questi dati raccontano non soltanto dati anagrafici ma anche emozioni, quale parola associeresti alla tua visita in museo, oppure appunto le provenienze geografiche. Sarebbe per noi molto interessante incrociare questi dati delle provenienze geografiche con i dati turistici, ma questo forse potrà essere raccontato da Stefano meglio di me dopo. Oppure ancora appunto ascoltando mi sono un po' segnata alcuni argomenti, per esempio sempre per il rapporto con il territorio, non so se avete seguito la polemica in atto molto interessante fra il governo greco e il Metropolitan Museum che conserva i marmi del Partenone, c'è anche una parte di Gossi perché la moglie di George Clooney è stata adesso ingaggiata per cercare di riportarli al museo, al Partenone. Anche dentro i musei di Torino, in particolare a Palazzo Madama che è un museo che è nato come un museo che racconta le storie del territorio, ci sono moltissime opere, in particolare le più antiche, che arrivano da chiese, da pievi del territorio e sono arrivate in museo un po' per dispersione perché magari le chiese non esistono più, un po' perché i parroci a un certo punto intorno gli anni 40, 50 le vendevano, un po' per vie antiquarie che non conosciamo. Ecco, il tema delle restituzioni, cioè del ridare ai territori di provenienza gli oggetti che stanno nei musei è un tema molto complesso che non è qui il caso di approfondire, se volete sono poi disponibile, però anche solo mappare quelle provenienze e dire che quell'opera che adesso è a Palazzo Madama, una volta stava a Dronero, stava in Val d'Aosta, stava in tantissimi posti del territorio, può aiutare anche un visitatore, una persona curiosa di sapere di più della storia del suo territorio a ricreare quel link culturale fra il luogo di provenienza e il museo. Non so, appunto, i temi che mi sono segnata ascoltandovi sono veramente tanti e come dicevo prima io sono un po' il vaso di caoccio, quindi mi scuso anche se non sono precisissima nell'esporre. I musei come crocevie, per esempio un tema che nei musei anche è importante, a cui facciamo attenzione è la gender equality. A Palazzo Madama da diversi anni si lavora sull'attenzione alle donne perché il pubblico dei musei è un pubblico femminile, allora il pubblico femminile dei musei e l'attenzione ai diritti delle donne, che Palazzo Madama poi per suo nome diciamo c'era un po' nel suo DNA, come si lega questa presenza femminile nei musei e anche negli staff della cultura con la formazione scolastica, con l'accessibilità appunto all'ingresso al mondo del lavoro e perché ci sono così tante donne nel mondo della cultura e così poche nel mondo della tecnologia, per esempio. Questo è un tema che noi cercheremo l'anno prossimo di sviscerare con incontri, conferenze. Ecco, non so, le suggestioni sono un po' queste, io rimango a vostra disposizione per domande e appunto ripeto l'appello che ho fatto all'inizio, noi abbiamo tantissimi dati, non siamo tanto capaci a tirarli fuori perché ci mancano le competenze, quindi siamo disponibili a renderli aperti a chiunque ci voglia aiutare a pubblicarli. Grazie. Grazie Carlotta, a questo punto completiamo con Stefano Benedetto. Grazie, voglio riallacciarmi immediatamente a quanto ha detto Carlotta sia all'inizio sia al termine del suo discorso. I dati nel mondo della cultura e nel mondo del turismo in particolare, per quello che ci può interessare, quelli relativi al mondo del turismo culturale sono tantissimi, ma sono veramente troppo poco correlati. Troppo poco utilizzati, troppo poco utilizzati e troppo poco utilizzabili, anche per la carenza di competenze specifiche che giustamente sottolineava Carlotta un momento fa. Questo è indubbiamente un tema che le pubbliche amministrazioni sentono molto come rilevante e sul quale appunto è opportuno accendere i riflettori e stabilire dei canali di collaborazione affinché chi detiene questi dati sia in grado di esporli nella maniera più appropriata, eventualmente modificando anche il proprio modo di raccoglierli in modo che questi appunto siano meglio utilizzabili, tenendo presente però appunto che molto spesso nelle nostre amministrazioni non ci sono le capacità poi di sfruttarli nella maniera più accurata ed opportuna. Quindi questo spirito di collaborazione, questi terreni concreti di collaborazione sono effettivamente oggi per noi molto importanti. ma per non restare sul vago vorrei lanciare una suggestione concreta, anche proprio specifica rispetto al tema delle mappe di cui parliamo oggi ed è una linea di attenzione e di investimento che la città di Torino ha seguito negli anni e che ancora dovrà sviluppare negli anni prossimi ed è il tema dell'arte pubblica. La città di Torino ha investito molto in arte pubblica negli ultimi decenni, altrettanto dovrà fare in futuro, non so se tutti sanno, ma una quota degli investimenti in opere pubbliche deve per norma nazionale essere destinata alla realizzazione di opere di arte pubblica. A Torino ci sono centinaia di opere di arte pubblica sparse sul territorio, a queste si sommano altre, almeno decine di opere di street art. Questa è stata una scelta strategica della città di Torino e ancora più lo sarà nel futuro. Ma è stata una scelta che dal punto di vista della comunicazione, della fruizione, dell'accettazione sociale di queste opere, di questi manufatti, quindi, devo dire, non ha dato assolutamente i risultati che erano attesi. Quindi, da un lato, noi come amministrazione per il futuro stiamo lavorando e saremo, speriamo, capofila di un progetto europeo proprio per innovare le modalità di progettazione e comunicazione di opere di arte pubblica. Ma abbiamo anche bisogno di comunicare molto meglio di quanto abbiamo fatto finora quello che già è stato realizzato. Quindi, quali sono le opere, dove sono, come sono raggiungibili, cosa c'è intorno, che cosa significano e così via. Quanto sono accessibili, raggiungibili e visibili. Ecco, questo è un tema che per noi è molto importante perché fa parte, appunto, di una scelta strategica che ha fatto la città che ha puntato molto, e voi lo sapete, anche sull'arte contemporanea per inventarsi un nuovo futuro, ma anche per i significati sociali che queste opere volevano avere e non sempre sono riuscite invece a trasmettere. Per cui, un filone sul quale io apertamente lancio il guanto di sfida è proprio questo. proviamo a lavorare sulle opere di arte pubblica della nostra città. Grazie. Allora, a questo punto passo a Giuseppe Roccasalva perché il punto che affronta lui è proprio il tema delle trasformazioni del territorio urbano. Buonasera, allora, il nostro compito è quello di darvi delle suggestioni, così un po' a braccio, usando un po' le esperienze che abbiamo avuto. In particolare, volevo raccontarvi due cose. Innanzitutto, questa iniziativa mi sembra estremamente interessante, ti ringrazio appunto di averci coinvolto e volevo condividere con voi appunto il modo in cui io la interpreto. Cioè ha due fasi, una fase per mappare, una fase per raccontare ciò che si è mappato. In altre parole, la riflessione metodologica che vorrei sottolineare è che la mappatura è una fase, come dire, per me di analisi e la fase invece di racconto è la fase un pochino più di divulgazione. Ecco, questo è quello che noi per 11 anni da oggi abbiamo fatto all'interno dei laboratori di ricerca del Politecchio di Torino. Cioè abbiamo cercato di analizzare un po' i dati che negli anni si sono pian piano liberati. Bellissima questa parola che ha usato prima Anna Cavallo. Liberare i dati mi sembra una sorta di missione. Questa parola liberare mi fa ben sperare proprio perché 11 anni fa, quando mappavamo, cioè quando analizzavamo i dati non ce n'erano a disposizione e allora cosa abbiamo fatto? Ed è qui che vorrei sottoporvi con una suggestione diciamo metodologica. Analizzare i dati, molto spesso dati che non sono disponibili, non sono liberi, significa anche aguzzare un po' l'ingegno e significa cercare di interpretare. Cioè molto spesso, dalla nostra esperienza, abbiamo ricavato informazioni utili da mappare cercando di interpretare ciò che di fatto magari è un'informazione che la gran parte delle persone trascura. Andiamo più nel concreto. Undici anni fa, quando si pagava la Tarsu, oddio, si pagava ancora oggi, però si pagava in una modalità diversa da oggi. Bene, dalla spazzatura abbiamo trovato una risorsa. Cioè abbiamo analizzato i dati che Torino ci ha messo a disposizione, cercando di utilizzare le informazioni della tassa rifiuti per capire il tasso di occupazione degli spazi privati all'interno della città nelle 24 ore. Adesso senza andare nella parte tecnica, c'è una formula molto specifica che ci dava la possibilità di capire, di ottimizzare, di interpretare quel dato per poter capire sostanzialmente i paesaggi temporali di occupazione delle case, dell'edificato all'interno della città di Torino. Questo cosa significa, ed è qui che parte la seconda azione, cioè quella di raccontare, raccontare dopo aver analizzato qualcosa per capirne anche il valore aggiunto. Bene, ci dava la possibilità di capire quegli spazi che erano più vissuti e come erano vissuti all'interno della città per capirne anche un po' la qualità dei rapporti relazionali, cioè nei luoghi, come ad esempio lo spazio che ci sta ospitando è un esperimento, però si trova in una zona ex-industriale interclusa tra due ferrovie, tra due linee ferroviarie. Ecco, è una zona che di fatto ha una prevalenza non residenziale, cioè cosa significa? Che le persone che abitano e vivono lo spazio privato e pubblico di questa zona non sono le stesse, né in quantità né in qualità, che magari stanno nel quartiere subito a fianco a questo. Questo ci ha permesso di intuire un po' quella che è la qualità del vivere all'interno degli spazi urbani, che è un po' la suggestione che vorrei darvi. Come fare a capire, ad analizzare la qualità del vivere all'interno degli spazi urbani? È il punto di domanda. Un'altra suggestione sempre relativa a questo tema è un altro esperimento che abbiamo fatto e cioè che poi ha dato vita a un articolo che se volete è su una rivista che si chiama Interaction Design and Architecture ed è quello di analizzare il cosiddetto spazio figitale che è un po' la crasi della parola fisico e digitale cioè analizzare i dati non soltanto fisici cioè da urbanisti, da progettisti urbani facciamo abbastanza in fretta ad analizzare quello che sono i contesti urbani di forma però analizzare anche il dato digitale all'interno degli spazi urbani geolocalizzabile all'interno degli spazi urbani mi sembra una cosa affascinante perché è come far parlare l'invisibile cioè provate a pensare una piazza mettiamo un microfono all'interno di una piazza e ascoltiamo il vocio, le chiacchiere fisiche che appunto si possono magari ascoltare all'interno di una piazza beh, perché non ascoltare anche i messaggi e magari appunto per chi è più alfabetizzato di me tecnologicamente riuscire anche a mappare quelle che sono invece i messaggi le comunicazioni non fisiche ma quelle digitali bene, in questo articolo descrivevamo un'esperienza che abbiamo portato a termine in una piazza di un'altra amministrazione di un'amministrazione comunale del Piemonte noi spesso e ancora oggi e questa è anche l'ultima indicazione che volevo darvi lavoriamo con i comuni quest'anno lavoreremo con due grandi amministrazioni una di quasi 50.000 abitanti e un'altra di una trentina di 30.000 abitanti in Piemonte che hanno un preciso obiettivo cioè quella di valorizzare quella che è la qualità dello spazio urbano delle loro città le loro piazze, le loro strade e questo si può fare in 3.000 modi però il primissimo punto ed è questo che mi piacerebbe che questa iniziativa potesse appunto accogliere all'interno delle sue attività è quello di mapparne le qualità alcune volte anche memory insomma dell'esperienza ormai decennale del nostro centro di ricerca queste qualità per quanto ci sforziamo di cercarle per quanto sia stata come dire utile la legge sulla liberazione insomma dei dati digitali molto spesso la miglior fonte di questi dati è la stessa la stessa cittadinanza per cui anche lì metodologicamente secondo me mappare non vuol dire semplicemente riportare un dato o un database che si è preso da qualche altra parte ma magari strutturare un sistema che possa raccogliere dei dati perché molto spesso la conoscenza come ci è capitato ad esempio con l'UNCEM che ha pubblicato un nostro piccolo brevetto all'interno delle comunità montane dove la comunicazione magari in alcuni periodi è sempre più difficile è estremamente attiva se il servizio e se un sistema di comunicazione viene ottimizzato per poter mettere in relazione le persone non fisicamente ma appunto digitalmente perché no la mappa non farla diventare proprio non tanto una rappresentazione di dati ma un raccoglitore che rappresenti i dati queste sono un po' le suggestioni anche sulla base di esperienze concrete che chi vorrà appunto potrò poi dargli i riferimenti diretti grazie buonasera a tutti sono Gianluca Matteucci e sostituisco il nostro direttore Sergio Dureti di CSP che ringrazia e qui lancio la prima suggestione perché si è infortunato giocando a calcetto secondo me sarebbe interessante andare a mappare il numero di persone uomini, donne di che età si fanno male a calcetto perché insomma è una cosa che colpisce soprattutto gli uomini over 40 allora volevo volevo raccontarvi che cosa abbiamo fatto noi scusate ma con il microfono allora io lavoro in CSP che è un organismo di ricerca partecipato da pubblica amministrazione da regione Piemonte da CSI Piemonte da città di Torino dal Politecnico dall'università e anche da alcuni soggetti privati prego Giuliana solo di prendere nota di questo numero 26.464.053 perché poi magari lo riprendiamo alla fine allora CSP ha iniziato a lavorare sull'IoT circa 5 anni fa con una piattaforma di back-end che continua adesso ad alimentare un front-end che è questo noi lavoriamo su infrastrutture di rete soprattutto in zone pesante digital divide infatti Marco di Uncham ci conosce bene soprattutto laddove nei comuni periferici in zone che sono non interessanti dal punto di vista economico per i grandi operatori delle comunicazioni quindi facendo diciamo tesoro delle nostre esperienze in termini di ponti radio wireless protocollo di comunicazione senza fili abbiamo sviluppato una nostra rete di infrastrutturazione per quei comuni infatti le Valle Orche sono state poi molto infrastrutturate grazie a un contributo regionale importante nel 2008 partire dal 2008 se non ricordo male comunque il passo successivo dopo l'infrastrutturazione è sempre la wireless sensor network cioè la messa in funzione di una rete wireless di sensori che comunicano dati dal territorio però a un certo punto ci siamo resi conto che tutti questi dati dovevano essere uno restituiti laddove possibile a territori stessi secondo organizzati in un sistema di pubblicazione insomma che avesse un senso però non avevamo le vostre competenze quindi abbiamo iniziato a cercare di capire come pubblicare il dato che non fosse semplicemente un elenco di CSV che fosse un dato sì in CSV poi vi spiego perché ma che fosse organizzato in qualche modo e quindi che in modo tale che il dato stesso fosse facilmente reperibile quindi abbiamo iniziato a fare un po' di card sorting credo che molti di voi conoscano la tecnica del card sorting consiste semplicemente nell'individuare l'elenco di item nel nostro caso sono valori che vengono raccolti da sensori per organizzarli secondo una mappa mentale che ognuno di noi ha laddove abbiamo trovato delle corrispondenze perché l'abbiamo fatto al nostro interno insomma non avevamo questa ambizione di condividere con il mondo la logica del card sorting l'abbiamo fatto al nostro interno e abbiamo trovato una nostra categorizzazione e qui c'è l'altra suggestione su come fare la categorizzazione noi siamo arrivati abbiamo creato una matrice bidimensionale che ha individuato i temi che sono stati raccolti forse si vede poco secondo una nostra logica e poi le tipologie di sensori chiaramente sono delle macro aggregazioni perché gli stessi sensori insomma il Politecnico lo sa bene sono estremamente diversi l'uno dall'altro addirittura ogni sensore è diverso dall'altro pur se prodotto dalla stessa casa madre e quindi comunque noi abbiamo individuato questa matrice bidimensionale abbiamo aggiunto un layer che era quello della georeferenziazione ovviamente qualcuno di voi adesso storce dal naso ma abbiamo usato Google Maps abbiamo usato Google Maps perché l'abbiamo fatto eh lo so hai ragione ma perché c'è un motivo sì sì assolutamente qui c'è un'altra un'altra suggestione nel senso che l'abbiamo fatto abbiamo iniziato cinque anni fa a lavorare su questo e OpenStreetMap obiettivamente non era particolarmente ehm attento soprattutto alle aree che interessavano a noi che erano le aree marginali adesso abbiamo visto che la diga del teleccio il rifugio pontese in realtà è molto meglio mappata su OpenStreetMap che su Google Maps quindi qui perfetto c'è un motivo per cui un'altra suggestione è quella di aiutare qualcuno che ha già adottato Google Maps a capire come fare a traslare su OpenStreetMap questa è una cosa interessante non solo quindi abbiamo pubblichiamo i dati dei sensori ma andiamone a prendere uno per esempio andiamo dai temi i ghiacciai che questo è un caso studio interessante abbiamo lavorato con Luca Mercalli di Nimbus perché c'era bisogno di andare a posizionare in un territorio molto remoto a 2850 metri sul livello del mare nel ghiaccio del Ciardonei una serie di informazioni e come vedete i dati che arrivano dai sensori sono parecchi allora vedete che c'è un avvi il dato è stato validato questa è un'altra cosa interessante da considerare noi abbiamo individuato una tipologia di validazione in tre passi se il dato cade già all'inizio non viene praticamente pubblicato cioè il dato è considerato errato se il valore non rientra entro i limiti fisici del sensore stesso quindi se stiamo considerando insomma un valore di temperatura se andiamo oltre il valore che il sensore è in grado di misurare il dato è quello chiaramente il dato è errato oppure se non rientra nei range stabiliti dal contesto di riferimento sul ghiacciato del ciardone difficilmente arriveremo a 40 gradi centigradi secondo passaggio dato dubbio il dato non ha passato cioè ha passato la prima fase ma risulta erroneo probabilmente cioè risulta non c'è dubbio probabilmente perché indica un andamento costante per esempio impossibile che un dato di temperatura sia fisso e inalterato in quel caso è dubbio se passa queste queste sono solo degli esempi se passa questa seconda validazione allora il dato diventa valido e in questo caso abbiamo appunto l'indicazione qui il dato è V ma qui sotto potete vedere che abbiamo poi queste altre spiegazioni poi cliccabili e dimostrabili tranquillamente tutti i dati su IOT net sono soggetti alla licenza creative commerce possono essere tranquillamente riusati anche con scopi commerciali e via dicendo basta che ci sia l'attribution giusto questo l'abbiamo fatto tutto questo lavoro è stato fatto perché il dato che noi acquisiamo all'interno della nostra piattaforma di back end primo non è accessibile al pubblico secondo non è interpretabile dal pubblico invece in questo caso l'obiettivo è quello di fare in modo che il dato venga facilmente raggiunto per ora da IOT net quindi front end il dato è visibile è scaricabile in csv dal nostro back end in realtà è utilizzabile anche con in formato json e poi ci sono le api e via dicendo però è un percorso comunque che stiamo portando avanti non per niente alcuni dei nostri dati vengono rilasciati su dati piemonte hit su smart data platform che aveva menzionato Anna Cavallo del CSI e via dicendo in più il dato viene pubblicato su twitter adesso forse solo sulla dalla home page eccolo qui il dato viene pubblicato lì e quindi finisco suggerendo due allora intanto avete visto il ghiiceo del ciardonei che appunto ha tutta una serie di dati molto interessanti l'altro tema che secondo me valeva la pena di prendere in considerazione è quello dei sensori virtuali il sensore virtuale è un sensore che non pubblica il dato in quanto tale adesso lo devo trovare il virtual sensor eccolo qua nel nostro caso è un dato che viene sostanzialmente catturato da una webcam è interpretato attraverso un algoritmo che abbiamo sviluppato noi e che ci dà il numero di veicoli che passano all'interno di una determinata porzione della viabilità di Torino nel nostro caso e quindi ci dice per esempio che sulla spina 2 in questo momento stanno passando 7 veicoli al minuto il dato è sostanzialmente è di oggi è in anticipo di un'ora quindi c'è qualche problema sul timestamp l'ultima cosa richiamandosi al discorso dell'agricoltura che è un tema come quello delle scuole particolarmente interessante dunque che è qui terreni coltivati stiamo lavorando molto con la raccolta di dati finalizzata alla riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci e interventi puntuali sulla coltivazione per evitare di arrivare tardi quindi dover fare poi degli interventi con insomma antiparassitari via dicendo in fondo il risultato poi rientra nella qualità della nostra vita perché è quello che mangiamo sulle nostre tavole della cucina tra l'altro questa foto per esempio è fatta col drone che è un'altra cosa interessa un altro strumento interessante per raccogliere dati da sensori e io direi che sostanzialmente ho finito il numero aggiorniamo il numero grazie vediamo quanti dati nel frattempo abbiamo raccolto 26 milioni 464 250 intanto voglio ringraziare le persone che hanno fatto in modo che col diretti e che il progetto di cultura digitale siano qui quindi Fabio e Giuliana e tutti quelli che ci hanno invitati a me spetta il gran finale nel senso che Martina Sabadini prima vi ha anticipato un po' quella che è stata la dinamica dell'inizio di cultura digitale cioè il bisogno e la speranza anche di avvicinare il mondo del digitale all'agricoltura perché? perché l'agricoltura nonostante il fatto che come giustamente Martina ha anticipato è un'attività caratterizzata dalla tradizione principalmente però ha avuto a mio parere per la mia esperienza professionale un avvicinamento al mondo del digitale dell'innovazione forse inaspettato in quello che erano i miei pensieri le mie speranze da studentessa quando finivo economia e pensavo a tutte queste cose le vedevo un po' come un sogno con cultura digitale abbiamo iniziato a raccontare come diceva Martina la storia di alcune aziende che sono forse quelle attualmente un po' più pronte ma anche quelle che si sono appassionate per prima all'utilizzo dei nuovi strumenti che la tecnologia mette loro a disposizione ma soprattutto stiamo cercando di avvicinare il mondo dei mercati di campagna amica come dice Martina anche dei ristoranti dei punti vendita degli agriturismi al consumatore cultura digitale ha un po' due obiettivi da un lato vogliamo che gli agricoltori si avvicinano e conoscano il mondo del digitale per utilizzarlo per far conoscere i loro prodotti le loro aziende i loro territori le loro storie ma dall'altro vogliamo anche che il digitale sia uno strumento di coesione tra il consumatore finale e i produttori agricoli noi organizziamo dei piccoli momenti anche formativi su quello che è il cibo la cultura del cibo l'alimentazione tanti temi che sono vicini alle nostre vite di tutti i giorni quindi quello che vogliamo dirvi è che nell'ottica di Expo 2015 ma non soltanto per Expo proprio per la vita quotidiana delle imprese agricole noi abbiamo pensato di chiedervi di ragionare insieme a noi su questi open data per creare che cosa noi speriamo di riuscire a mappare e soprattutto a rendere traducibili per i visitatori che verranno a Expo quindi in ottica Expo ma anche successivamente mappare tutti quelli che sono i punti di Campagna Amica i cui dati sono disponibili sono già disponibili quindi agriturismi botteghe mercati luoghi caratterizzati dalla presenza dei produttori e dei loro prodotti agricoli per creare delle mappe che possano essere utilizzabili per attrarre turisti nel periodo di Expo ma in generale sempre per attrarre le persone ad andare a visitare questi luoghi e trovarsi e darsi appuntamento come luoghi di aggregazione perché il mercato possa essere anche un mercato di relazione di luogo un luogo di relazione quindi la sfida che noi siamo qui a lanciarvi oggi è che vi lanciamo attraverso un premio speciale nell'ambito di Piemonte Visual Contest un premio che si caratterizzerà appunto in un weekend presso uno degli agriturismi di Campagna Amica la sfida è proprio questa aiutateci a mappare i nostri punti aiutateci a farlo in un modo attraente innovativo accattivante aiutateci ad avvicinare le persone avvicinarle ai produttori ai prodotti agricoli a quelli che sono i luoghi come i mercati i luoghi di vendita i luoghi di scambio e di relazione e facciamolo pensando proprio come dicevamo prima all'inclusione cioè pensiamo non soltanto alle persone in grado di muoversi liberamente ma come dicevamo prima che abbiano anche delle difficoltà delle disabilità o delle difficoltà temporane dei bisogni specifici pensiamo a tutte le persone che hanno delle allergie a tutte le persone che si muovono come dicevamo prima con i bambini tutto il tema ho visto prima molto bello l'attenzione al tema dei bambini quindi anche qui pensiamo all'infanzia e possibilmente come tra l'altro abbiamo visto prima ci sono ed esistono i dati relativi alla logistica ai trasporti quindi utilizziamo anche questi dati per metterli a sistema con quello che è il mondo agricolo per cercare di capire di far comprendere alle persone come possano appunto spostarsi per raggiungere i luoghi quindi la sfida che vi lancio è questa spero che vi piaccia che vi affascini il premio è qui in questo foglio descritto minuziosamente il foglio è stato consegnato a Fabio alla signora Bonello e qua per voi è leggibile visibile lo possiamo magari appendere nella bacheca così lo potete vedere tutti ma sarà sicuramente disponibile visibile nei prossimi giorni anche online in modo tale che lo possiate consultare spero che vi affascini che vi stimoli a darci la vostra creatività grazie a tutti bene grazie penso che appunto abbiamo dato un overview e qualche suggestione a tutti quanti c'era forse anche qualche altra suggestione che avevamo invitato a rendere pubblica e a condividere però chiedo a Elena Elena dov'è? non c'è di là perché c'era non so se qualcuno lavora con Rossella Maspoli che aveva di qua eccoli Rossella se vuoi venire anche tu a condividere la vostra suggestione buongiorno a tutti noi abbiamo un progetto un progetto di interdisciplinarietà per una mappa di quartiere che riguarderà quartiere barriera di Milano e che vi metterò nella bacheca i nostri riferimenti è un discorso di social mapping che parte con un finanziamento della compagnia di San Paolo e che vede il Politec ma soprattutto come coordinatore dell'Accademia delle Belle Arti di Torino su questo stiamo partendo abbiamo trovato un mappatore ci piacerebbe avere un riferimento sia di stakeholder locali che vivano un quartiere che siano esperti ma non solo ma che abbiano attenzione a quelli che possono essere gli indicatori che servono per avere la percezione di questo quartiere sotto degli spazi pubblici e sia anche eventualmente qualche mapper che può servirci per la fase di test in visto che non ci sono molte esperienze così proprio di mappa dal basso che non è quella di un ecomuseo ma che vuole coinvolgere chiaramente in dimensione limitata ma potenzialmente un quartiere di 60.000 abitanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti